Zagnolo non convocato, ecco cosa fa durante la bufera con la Roma. Roma continua a far discutere la mancata convocazione di Nicolo Zagnolo per la partita contro lo Spezia. In programma domenica alle ore 18 allo Stadio Picco. La scelta è stata totalmente del giocatore. Che ha fatto sapere ad allenatore e società di non essere disponibile per la sfida contro la squadra della città in cui è cresciuto. La decisione arriva dopo aver saltato anche la scorsa partita, contro la Fiorentina. Per una febbre. Roma, strappo Zagnolo, ha detto a Mourinho di non essere disponibile per giocare. Zagnolo non convocato. Tifosi infuriati, ti abbiamo sostenuto sempre. Ma ora. Zagnolo posta sui sociali in mezzo alla bufera tra critiche e commenti sulla vicenda. Si attendono ancora novità e spiegazioni sulla scelta di Zagnolo. In mezzo alla bufera è stato lo stesso giocatore ad esprimersi sui social. Sorprendendo i tifosi. Zagnolo, pochi minuti dopo l'arrivo della notizia della convocazione. Ha postato una foto del figlio Tommaso, nato dall'ex fidanzata Sara Scaperrotta. Inallegato alla foto due emoticon, una di un cuore e l'altra di un pallone da calcio. Zagnolo, per il momento, non si esprime sulla vicenda ma non ha neanche mantenuto il totale silenzio sui social. Virgola.